salve a tutti oggi è l'otto settembre 2019 siamo via solero angolo via fiume innanzitutto volevo farvi vedere una cosa per piacere mettere un po su questo coperchio della plastica voglio farvi vedere che cosa c'è qua dentro ci sono dei bancali di legno all'interno dei cassoni della plastica guardate guardate qua questa è la raccolta differenziata ma non è finita chiuda pure grazie abbiamo qui un residente che è molto incazzato qui fuori dai cassonetti abbiamo altri rifiuti marciapiede ancora invaso da rifiuti probabilmente hanno svuotato una cantina non si sa guardate quanta roba guardate guardate quanta roba c'è di tutto non ci facciamo mancare niente anche un pneumatico guardate le sedie dei residenti incazzati scusate il termine ci hanno chiamato e ci segnalano queste schifezze che ormai quotidianamente si vedono in questa città purtroppo a causa di sozzone ecco ci segnalano un'altra cosa vediamo un po cosa c'è la plastica all'interno della carta il signore qui che non vuole essere inquadrato la differenza nel modo opportuno qui siamo in via solero in alessandria angolo con via fiume possiamo vedere bene dove ci troviamo e questo è lo schifo che c'è svegliati alessandria ma svegliati per davvero buona serata a tutti